Buongiorno a tutti, siamo qui per presentare l'Istituto d'Istituzione Superiore Paolo Frisi di Milano, una scuola al cui interno si ritrovano tanti corsi, ovvero un liceo economico-sociale, un istituto professionale, settore servizi sociosanitari, commerciali e l'enomersonomia per l'ospitalità alberghiera e i corsi di istruzione e formazione professionale per l'ospitalità alberghiera e per gli accoggiatori. Le grandi caratteristiche del nostro istituto comuni a tutti questi corsi sono la capacità di riorientare gli studenti nel primo piegno, a fine di garantire il successo formativo, l'attenzione allo studio delle lingue staniere, l'attenzione e l'investimento nell'uso della strumentazione informatica, la maggior parte delle nostre aule sono dotate di link e di connessione a internet, l'alternanza scuola-lavoro. Grazie a tutti! Buonasera! Buonasera, io sono la professoressa Rivetti dell'istituto Papo Frisi, mi occupo di parecchi anni di orientamento e in particolar modo dell'orientamento in ingresso. Questo è il secondo Open Day che abbiamo organizzato per le iscrizioni dell'anno 14-15. Siamo soddisfatti dell'afflusso delle famiglie, dei ragazzi con i loro genitori. Ci auguriamo di essere stati esattivi in questa occasione e anche in quella precedente in cui c'era stato veramente un afflusso ancora maggiore dato che era un periodo così un po' di incertezze. Adesso diciamo che siamo alle conferme, dato che le iscrizioni sono state già aperte da poco tempo, sicuramente ci sono delle famiglie che sono venute ancora, magari sono ritornate a vedere la scuola per poter prendere la decisione finale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.